Bellissima serata quella vissuta in occasione del Festival dei Popoli, evento inserito nel cartellone della 34esima estate internazionale del folklore del Parco del Pollino, in corso di svolgimento a Castrovillari. Le comunità presenti nella città del Pollino si sono date appuntamento nel piazzale del Castello Aragonese e tra gastronomia, musica, tradizioni, la serata è stata davvero magica. L'evento è stato realizzato in collaborazione con le associazioni Integrandosi, Cidis, Ollus e Mioriza. Ad imprezzosire la serata, le danze di due dei gruppi presenti alla Kermess, Botswana e Argentina. Ed ancora la musica dei Carson Sound che ha coinvolto il popolo del Festival. Ospite della serata è il presidente mondiale dell'IGF Unione Folclorica Europea, Dorel Cosma, organizzatore tra l'altro di uno dei più importanti festival d'Europa a Bistrizza, Romania. Un'amicizia di lunga data tra il presidente Cosma e il direttore artistico Notaro. D'Antonio è un grande amico, noi lavoriamo credo di 20 anni. D'Antonio viene a noi, nel nostro paese in Romania, in differenti paesi dell'Europa e del tutto il mondo. È uno gruppo bellissimo di Castrovillari. Io vedo la sua musica e i suoi costumi, i ballerini sono fantastici. Questo festival è una delle grandi manifestazioni dell'Europa. Complimenti per lui e per tutta la sua equipa che lavora per questa manifestazione. Dorel tra l'altro è il presidente mondiale dell'IGF e rappresenta veramente in tutto e per tutto il folklore in tutto il mondo. Lavorano tutto l'anno insieme a un'equipe rappresentata da tantissimi direttori di festival, ma anche persone che si occupano di cultura, soprattutto di folklore, e ogni nazione ha un rappresentante. Dorel è il presidente ed è il degno presidente di questa organizzazione mondiale. A sorpresa il presidente mondiale dell'IGF comunica al direttore artistico che l'Oscar mondiale del folklore IGF 2020 verrà conferito proprio a lui. Abbiamo una sorpresa per il mio amico Antonio Taro perché il nostro board, l'IGF board, l'organizzazione mondiale del folklore, noi abbiamo una discussione per tutte le sue labore, per tutte le sue attività. Al prossimo anno noi, come si dice, decisiamo per, sì, un riconoscimento grande, un premio Oscar per il folklore, un premio del mondo per Antonio Taro la prossima anno. Eh, insomma, è bellissimo saperla adesso così in diretta, che emozione, eh? Grazie, grazie veramente, grazie. È troppo emozionato per dire qualcosa, direttore? È una bellissima sorpresa, non ho parole, cioè, non so che dire. Visibilmente commosso Notaro per questo riconoscimento che preme agli oltre 40 anni dedicati con amore e dedizione al mondo delle tradizioni popolari, sia come direttore artistico di uno dei più importanti festival a livello mondiale, che come direttore artistico del gruppo folclorico Città di Castrovillari, che da oltre un trentennio porta nel mondo gli usi, i costumi, i canti e le danze della propria terra.